Ecco una frizzante novità per la stagione primavera estate 2014, nolita in valigeria ambrosetti. Colori accesi, tagli grintosi e modelli ben strutturati contraddistinguono questo giovane brand che si presenta al pubblico con prezzi davvero competitivi. Ecco le nuove linee di borse portafogli che hanno tutto il sapore dell'estate, grazie all'utilizzo di una leggera e morbidissima ecopelle. La prima linea è caratterizzata dal motivo traforato e offre tre modelli, una borsa mano verticale con tasca esterna posteriore, l'immancabile bauletto perfetto da giorno e da sera con tre tasche e due scomparti e un'ampia sacca mezzaluna ideale per chi cerca una borsa multifunzionale con un tocco glam. Tutte sono corredate di tracolla e i colori disponibili sono il fucsia, il bianco e il nero. La seconda linea è un trionfo di rigore e semplicità. Il neco cuoio dall'effetto leggermente lucido regala un tocco di leggerezza grazie al colore predominante del sole. Una capiente borsa perfetta anche come cartella da lavoro munita di scomparti e taschine permette l'ottima organizzazione per chi è fuori casa tutto il giorno, mentre un elegante kelly per tutte le fashion victims assicura un look perfetto per i pomeriggi con le amiche. Tracolla aggiuntiva sempre inclusa sono realizzate in due varianti bicolore, giallo bianco e giallo beige. Ecco infine la linea che sprigiona energia e anima rock grazie alle mille cerniere che talvolta celano comode taschine. Un sottospalla minimal, una shopping bag a mano con tasca esterna posteriore e un'ampia sacca con tasca frontale disponibili in nero, grigio polvere e giallo renderanno i vostri outfit grintosi e alla moda. Se poi cerchi un portafoglio da abbinare a queste estrose bags, voilà il gioco è fatto. Ecco un ampio soffetto con tasca esterna e un all zip around. Quindi quando volete regalarvi un attimo tutto per voi passate in negozio e date uno sguardo all'anteprima Nolita. La vostra opinione per noi è importante, ma se non riuscite a fare una visita in store allora comodamente da casa vostra potete acquistare queste stupende borse e tutti i portafogli Nolita direttamente nel nostro shop online su www.valigeriambrosetti.it